Presentata la sesta biennale del Mosaico di Ravenna, una prima parte del calendario che sarà completato dopo l'estate per un'edizione che si svolgerà dal 6 ottobre al 24 novembre. Sarà una biennale che coinvolgerà i luoghi di ricultura della città, musei, palazzi, biblioteche e i monumenti UNESCO. 40 fra eventi e mostri si susseguiranno nell'arco di un calendario che intersecherà i tradizionali eventi ravennati d'autunno, arrivando fino a Faenza in un soddizio consolidato fra mosaico e ceramica. Una biennale che rilancia, se mai ce ne fosse bisogno, l'identità di Ravenna, città del mosaico, antico e contemporaneo. L'altra caratteristica è che è una biennale alla quale partecipano soggetti diversi, praticamente tutti coloro che si occupano di cultura, di istituzioni culturali, di mosaico, anche dal punto di vista delle botteghe artigiane, saranno protagonisti della biennale. E una cosa che mi preme molto sottolineare è che di questa biennale saranno protagonisti artisti famosi, anche di fama internazionale, ma anche artisti giovani e giovanissimi. Al Mar ci saranno due artisti molto particolari. Sì, due artisti particolari e diversi. Un artista di fama internazionale, uno dei grandi nomi dell'arte contemporanea, Chuck Close, che ha utilizzato il mosaico partendo da altri linguaggi artistici. E con Chuck Close avremo non soltanto un'esperienza artistica internazionale, ma anche lo stupendo percorso della metropolitana di New York e delle allestimenti artistici che arricchiscono la metropolitana di New York. E poi ci sarà un artista giovane, un artista, perché di un artista si tratti, che lavora con i matoncini Lego, fa opere d'arte con i matoncini Lego e quindi è una sorta di evoluzione moderna e anche molto giocosa del mosaico. E questa mostra di Zangelmi sarà una mostra di grande interesse, credo anche per i giovani e i giovanissimi. Ma guardate bene che il Lego è la passione di una vita, per cui ci sono amanti del Lego che sono anche adulti. Quindi due mostre, una per un pubblico molto attento alle vicende dell'arte, l'altra per un pubblico più vasto, perché l'arte, il mosaico contemporaneo, noi vogliamo che siano una testimonianza a disposizione di pubblici diversi. Davvero chiunque voglia venire a Ravenna nel periodo della Biennale può trovare una proposta che gli interessa e che è all'altezza delle sue aspettative o della sua voglia di conoscere e di sperimentare. Cosa rimarrà la città di Ravenna? Quali installazioni perenni? Ci saranno iniziative di vario segno, di vario genere, mostre temporanee, ma poi, come sempre più vogliamo fare con la Biennale, vogliamo lasciare anche dei segni permanenti. Ci saranno un paio di progetti che hanno queste caratteristiche. Uno riguarda un'installazione nuova di arricchimento dello spazio antistante e l'ingresso al carcere cittadino. Verrà posato in maniera permanente nello spazio d'ingresso la riproduzione a mosaico con una soluzione molto innovativa di un labirinto, del labirinto che è una citazione del patrimonio artistico della nostra città, in particolare di San Vitale. E questo labirinto è stato molto importante, non solo perché è un'opera d'arte a tutti gli effetti, alla quale hanno contribuito molti artisti, ma per anche un lavoro che è stato costruito con i detenuti del carcere. Dimostrazione di come l'arte possa essere un'occasione di crescita anche per persone che vivono un momento complesso della loro vita, come la detenzione in carcere. L'altro progetto è invece il Parco della Pace, uno straordinario parco di opere a mosaico presente nella nostra città dagli anni Ottanta del Novecento. Ci sono opere di artisti di primissimo livello e bisogno di lavori di restauro. E allora, assieme all'Università, all'Accademia di Belle Arti, al Liceo Artistico e alle due fondazioni, con i Flaminia e Ravenna Antica, con l'Associazione Internazionale dei Mosaicisti, abbiamo fatto un progetto complessivo di restauro del parco. Oggi sappiamo quali lavori devono essere fatti, come e quando. E in occasione della Biennale, oltre a presentare il progetto di restauro, partiamo anche col primo cantiere, che è un cantiere scuola, un cantiere di cui saranno protagonisti i ragazzi e le ragazze che in questo momento frequentano il corso di restauro della nostra Università e anche l'Accademia di Belle Arti e il Liceo Artistico.